Musica Grande successo anche quest'anno per la partecipazione di Unicam a Futura Festival. Nuovo indirizzo in innovazione tecnologica per il corso di laurea in fisica. Incontro in Ateneo per la definizione del progetto sulle aree interne. Ad Unicam Summer School sulla didattica delle geoscienze. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Unicam News. Questi titoli ma iniziamo subito con il primo servizio. Anche quest'anno l'Università di Camerino ha partecipato con grande successo a Futura Festival. L'importante manifestazione culturale che si è tenuta a Civitanova dal 24 luglio al 3 agosto. Ad alternarsi nelle diverse serate nello spazio dedicato ai laboratori didattici e dai seminari allestiti presso il Chiostro San Francesco a Civitanova Alta. Docenti, ricercatori e studenti Unicam, chimici, matematici, architetti, informatici, veterinari fisici, operatori del Museo delle Scienze e docenti del corso di laurea in tecnologia e diagnostica per la conservazione e il restauro. Che hanno coinvolto il numeroso pubblico presente in divertenti ed innovativi esperimenti, giochi, dimostrazioni, sfide e laboratori scientifici. È stato possibile passeggiare nel futuro con percorsi 3D tra castelli e montagne russe, pilotare un drone, fare esperimenti di chimica e creare dei vermi giganti, cimentarsi in giochi e rompicapi matematici, provare robot e trenini volanti, scoprire i segreti per una corretta alimentazione, creare addirittura una cometa. Il rettore Corradini ha partecipato con entusiasmo alla cerimonia di inaugurazione ed è stato poi protagonista sul palco per presentare il progetto che grazie alla collaborazione tra l'Ateneo e l'azienda automobilistica Belumburi ha dato vita all'auto elettrica Dani. Che è stato possibile provare per le vie di Civitanova, un divertente viaggio nella scienza dunque per comprendere quanto questa sia presente nelle normali e molteplici attività quotidiane di ciascuno. Importanti novità nell'offerta formativa del corso di laurea in fisica di Unicam dal prossimo anno accademico sarà infatti introdotto il nuovo curriculum di studio in innovazione tecnologica che accanto alla solida formazione scientifica di base del fisico consentirà di apprendere come adoperare o sviluppare e creare nuove tecnologie. Questo indirizzo di innovazione tecnologica che partirà da questo prossimo anno accademico a Camerino si affianca al corso di fisica tradizionale sostituendo alcuni corsi diciamo un po' più teorici con dei corsi dove si potenzia questo aspetto quindi il ragazzo impara a progettare modelli quindi affrontare alcune questioni più strettamente connesse al mondo produttivo come può essere il design di pezzi, controllare la qualità dei pezzi, controllo di qualità su ad esempio alcuni materiali per la produzione di motori o di auto. Noi crediamo che questo corso di studio sia perfetto per individuare una figura che è a metà strada del fisico e dell'ingegnere specializzato in innovazione quindi affrontare problemi nuovi che come sappiamo l'innovazione è molto importante. Oltre che presso i laboratori Unicam, conclude il professor Vitali, gli studenti avranno l'opportunità di acquisire competenze nel corso di stage prolungati in aziende mettendo a frutto i sempre più stretti legami dell'Università di Camerino e della Scuola di Scienze e Tecnologie in particolare con aziende marchigiane. Nato nel contesto della consulta permanente per lo sviluppo in tavolo di concertazione territoriale coordinato dall'Ateneo di Camerino sta proseguendo celermente il progetto sulla strategia delle aree interne della regione Marche riferito all'area dell'Alto Maceratese di cui Unicam è appunto capofila. Nei giorni scorsi si è tenuto in Ateneo un incontro operativo al quale ha partecipato anche l'assessore regionale Angelo Sciapichetti. La regione pensa che il progetto del rilancio delle aree interne portato avanti da Fabrizio Marche sia strategico e fondamentale per il rilancio dei nostri territori. Noi abbiamo di fronte un appuntamento importante che rappresenta una sfida per l'amministrazione comunale e per la regione. Dobbiamo riuscire a centrarlo ma se mettiamo insieme i saperi rappresentati dall'Università, qui in questo caso l'Università di Camerino, se mettiamo insieme le istituzioni riusciamo a creare quell'occasione di sviluppo ed evitare quello spopolamento dei nostri territori di cui noi abbiamo sofferto e patito le conseguenze per troppi anni. Nei giorni scorsi l'Università di Camerino ha ospitato la Summer School su metodologie e percorsi didattici per le geoscienze, rivolta a docenti delle scuole di ogni ordine grado. L'iniziativa è nata nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro Unica MIRF, istituito dalla sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie. I partecipanti hanno potuto seguire workshop, laboratori ed escursioni per una didattica attiva delle scienze della Terra. Il progetto Unica MIRF, unico in Italia, è stato infatti avviato con l'obiettivo di supportare i docenti della scuola di ogni ordine grado ed è per questo che vi fanno parte tra gli altri anche gli insegnanti delle scuole superiori, attualmente dottorandi in scienze della Terra presso l'Università di Camerino. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che tutte le informazioni sull'Università di Camerino le potete consultare sul sito internet www.unicam.it. L'appuntamento con Unicam News torna la prossima settimana alla stessa ora. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie.